se mi dicessero che l'acqua è di qualcuno che risate mi farei se mi dicessero che ci specula qualcuno questo non l'accetterai si partirei anzitutto dicendo che lo Spirito Santo è presentato come fuoco ma Gesù ha detto sarete battezzati in acqua e Spirito Santo nel pomeriggio avremo dei battesimi a Masone quattro battesimi provenienti anche da Marmirolo preghiamo per i bambini che saranno battezzati l'acqua è importante e fondamentale per la vita fisica per la comunità, per gli individui e anche per la vita spirituale a questo proposito come è stato già accennato troviamo gli amici del comitato Acqua Bene Comune che ci aspettano da due ore circa e si mettono al nostro servizio se abbiamo le bollette dell'acqua o anche se non le abbiamo portate possiamo ritirare i moduli e vedere come riempirli per autoridurci la bollette dell'acqua legalmente è una campagna di obbedienza civile perché il referendum è stato chiaro ed è esecutivo purtroppo non è stato ancora applicato in molta parte d'Italia vogliamo che sia applicato, ecco di conseguenza la campagna il mio voto va rispettato quindi chi vuole, chi desidera ma tutti siamo invitati ad approfittare di questo servizio se mi dicessero che l'acqua è di qualcuno che risate mi farei se mi dicessero